Cari amici e amiche di Terra Moveb, buona giornata. Oggi sono contento di potervi dare il saluto e la benedizione di Papa Francesco che ho ricevuto anche per voi durante l'udienza generale, alla quale ho partecipato per accompagnare un gruppo di cinesi che nei giorni scorsi sono stati ospiti della nostra diocesi nella piccola opera Caritas di Giulia Nova per un meeting internazionale. Forse avrete appreso già qualche notizia, è stato il secondo meeting sull'arte come strumento di riabilitazione, di comunione tra le persone, di espressione delle capacità che ogni persona, anche colui che non è completamente sano dal punto di vista fisico, psichico soprattutto, però ha delle capacità che riesce ad esprimere attraverso i colori, attraverso il disegno, la scultura e altre opere d'arte che fino alla fine del mese di maggio saranno esposte nel Museo di Arte Moderna presso il Santuario dello Splendore. Due sale raccolgono delle opere prodotte proprio alla piccola opera Caritas, due sale sono opere prodotte dai ragazzi della Yui Ling cinese e altre due dai ragazzi, dalle persone che fanno riferimento al centro Caril Silta della Finlandia, con il quale ci siamo incontrati proprio durante il viaggio in Cina ed è nato così questo progetto di approfondimento, anche di divulgazione, di conoscenza di come l'arte possa effettivamente creare regami nuovi ed esprimere le capacità di coloro che in genere sono considerati un po' a margine della società, se non a volta ridotti proprio a scarti sociali. È il messaggio forte di Papa Francesco che in queste situazioni prende corpo, diventa esperienza personale per coloro che riescono a cogliere il sorriso, la gioia, la soddisfazione, la piena realizzazione di non più a questo punto semplici bambini, ragazzi che si divertono, ma adulti che trovano proprio durante l'espressione, la lavorazione sulla tela, sulla carta, sul legno o su altro materiale, ecco, di vedere ciò che essi stessi sono capaci a fare. Una piccola nota conclusiva è che io ho notato, perciò ne sono profondamente convinto, che potrei dire addirittura in Cina, nel corridoio di accesso al Museo Pinacoteca Nazionale di Quangzhou, Canton, nella Cina del Sud, erano esposti nel 2012 quadri realizzati proprio in questi centri Yuiling. E credo che non ci siano altre parole per commentare questa realtà di integrazione sociale, o almeno di tentativi che facciano sentire i diversamente abili, come a volte vengono chiamati, ma veramente nel manifestare le loro abilità e le loro potenzialità. Buona giornata a tutti.